Facciamo vedere Rashid Kuda con le immagini di Diego Martelli che sta passando ora in postazione, lui è il giocatore, l'oggetto del desiderio del DS dell'Icarri, un classe 2002 di cui si dice un gran bene. Rashid Kuda, lo salutiamo, ci puoi fare un saluto Rashid? Sai che il pescara ti vuole? No, in realtà non so niente. Bugia, sorriso che sa di bugia. Ciao Rashid, grazie, grazie, grazie a Rashid Kuda.